Quest'anno come Unicef Italia celebriamo i nostri 50 anni di impegno per i bambini in Italia e nel mondo. In questi anni, ha dichiarato la Presidente Carmela Pace, grazie al supporto degli italiani abbiamo raccolto e trasferito quasi 1,7 miliardi di euro ai fondi che hanno contribuito a vaccinare, curare, proteggere, istruire milioni di bambini. Questo significa aver fatto la differenza. Grazie anche all'impegno del Comitato Italiano, i programmi dell'Unicef hanno avuto risultati importanti per i bambini. La mortalità infantile a livello globale si è sensibilmente ridotta. Nel 1960 nel mondo morivano ogni giorno oltre 54 mila bambini prima di aver compiuto 5 anni per cause prevenibili. Nel 1980 ne morivano 36 mila. Dal 2000 ad oggi il tasso di mortalità è diminuito del 51%. Molti progressi sono stati realizzati soprattutto grazie alle campagne di vaccinazione di massa. Queste, infatti, hanno contribuito a salvare almeno 154 milioni di vite. Nonostante siano passati 50 anni dalla nostra fondazione, conclude Pace, i bambini hanno più che mai bisogno del nostro sostegno. Oggi devono affrontare vecchie e nuove sfide che mettono in pericolo le loro vite.